Dopo 20 anni sono tornati a circolare Filo Bussacchieti, sul percorso di quasi 10 km da Piazzale Sant'Anna all'ospedale Colle dell'Ara, passando per i punti nevralgici dello scalo, ovvero Piazzale Marconi e l'Università, il servizio sospeso dall'amministrazione Cucullo nel 1993 è stato ripristinato con i primi due mezzi elettrici adattati del vecchio autoparco. I cinque nuovi mezzi, spiega il Tg Max, l'assessore ai lavori pubblici Mario Colantonio, entreranno in funzione a breve. Il comune nel corso di questi anni ha fruito di finanziamenti pubblici, sia a livello regionale che a livello europeo. È chiaro, è un'opera importantissima, fondamentale. Oggi i Filo Bussacchieti sono tra i pochi strumenti ecologici per rispetto ecologico che permette la possibilità di avere un servizio eco-compatibile. Adesso ne è passato uno. Da oggi sono in funzione i vecchi Filo Buss, comunque quelli che facevano parte del vecchio stock, perché da domani inizieranno i collaudi dei nuovi cinque Filo Buss acquistati che verranno utilizzati su tutta la linea in misura di quattro contemporaneamente. E con il primo giorno di riattivazione del Filo Buss fioccano le prime multe per gli automobilisti indisciplinati e distratti. La zona più critica è quella di Via dei Vestini, con la rampa prospiciente del Rettorato interdetta al traffico perché il transito è riservato esclusivamente alla storica linea 1. L'assessore Colantonio annuncia tolleranza zero. La pattuglia dei vigili urbani ha elevato 11 multe per quattro autovetture scattata anche la rimozione perché parcheggiate in prossimità dell'intersezione. Un'infrazione è questa che crea condizioni di pericolo per il Filo Buss e per i suoi passeggeri. È stata riemessa un'ordinanza che di fatto vieta di sostare e parcheggiare su questa strada che ha senso unico ed è destinata esclusivamente al passaggio dei Filo Buss. C'è il divieto di sosta sia a destra che a sinistra. Ma soprattutto le macchine non devono sostare sulla parte finale, cioè sull'immissione di Via dei Vestini. Tant'è che io mi trovo qui adesso, sono stato costretto a chiamare i vigili urbani per far multare e rimuovere le macchine che ci sono parcheggiate perché i cittadini devono cominciare a capire e a leggere i segnali stradali perché su queste cose saremo intransigenti perché limitiamo un servizio pubblico per gli altri cittadini che usano i mezzi pubblici. Grazie. 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 Grazie.